Per me sono sempre stati i videogiochi. Ho cominciato a programmare perché sin da bambino volevo sapere come funzionano i videogiochi e i videogiochi sono i programmi più complessi e più costosi che si possono creare. Poi la vita è piena di sorprese e ora della fine non sono andato a fare i videogiochi, ma sono diventato un programmatore. Per te potrebbe essere qualunque altra cosa. Magari sei stato preso dalla domotica, dai chatbot, dalle intelligenze artificiali, dalle applicazioni web, insomma, qualunque cosa sta di fatto che sei qui a chiederti come si inizia a programmare, come faccio a imparare la programmazione da zero? In questo video cerco di dare qualche linea guida su come approcciarsi a questo vastissimo mondo. L'informatica è un mondo molto molto ampio e trattare tutto in un singolo video sarebbe, anzi, è sicuramente impossibile e sarebbe anche estremamente riduttivo. Ma partiamo dalle basi. Che cos'è un programma? Un programma non è altro che un oggetto informatico che incapsula delle istruzioni che sono comprensibili a un pezzo di ferro, o meglio, al silicio che è contenuto in tutti i pezzi che compongono il tuo computer, in particolare la CPU, il processore. Quindi questa scatola, questo contenitore che noi siamo abituati a chiamare applicazione, non è nient'altro che un elenco lunghissimo di istruzioni per il tuo computer, per il tuo processore e gli altri componenti. Questa scatola, questa applicazione, prende come input dei dati o dei movimenti o dei gesti e dà come risultato un output. Quindi un risultato. Questo e solo questo, ora della fine, sotto sotto, è un programma. Certo, ci sono programmi semplicissimi e programmi molto molto complessi, ma sono tutti delle scatole che prendono in input qualcosa e danno in uscita un output qualcos'altro. Pensa, ad esempio, a quel programma che prende come input il movimento del tuo mouse e lo traduce in un cursore che si muove attraverso lo schermo. Pensa, per esempio, ad un programma calcolatrice che prende come input dei numeri e ti dà risultato in uscita. Ma quale linguaggio di programmazione è più adatto per iniziare a imparare? Beh, di linguaggi di programmazione ce ne sono tantissimi e divisi in molte categorie. Pensiamo, per esempio, al C, uno dei linguaggi più vecchi, adottato in ogni ambito possibile e immaginabile, ma al giorno d'oggi, soprattutto in quella che è cosiddetta la programmazione a basso livello e, in particolare, nella programmazione dei sistemi o per in pezzi di componenti di sistemi operativi come Windows, Linux e Mac. È anche utilizzata nella programmazione dei driver, cioè quei pezzi di programmi, quei programmi che servono per comandare pezzi del computer come la scheda grafica, la scheda audio, un microfono e così via. Abbiamo linguaggi che sono più idonei, per esempio, alla creazione di applicativi web. Abbiamo il Java, abbiamo il C Sharp, abbiamo poi JavaScript, che è un linguaggio che da anni, nell'ambito web, spopola tantissimo, con cui è possibile programmare applicazioni web e fare tanto, tanto altro. Abbiamo l'SQL, che è il linguaggio principe con cui si interagisce con le basi di dati o i database. Abbiamo, per esempio, anche il C++, uno dei primissimi linguaggi ad oggetti utilizzato praticamente in tutti gli ambiti della programmazione e dell'informatica. Di fronte a tutta questa scelta, quello che possiamo dire è che non c'è un linguaggio di programmazione migliore, è sempre un dipende, dipende dal proprio progetto. Ogni linguaggio di programmazione è particolarmente forte in un determinato ambito, perché è stato sviluppato per quello specifico settore. Pensiamo, per esempio, a Python, che è diventato molto famoso in ambito di calcoli numerici ed è diventato diffusissimo nell'ambito della data science e della manipolazione di grandi quantità di dati. Quindi dipende dal tuo progetto. Ogni progetto avrà il linguaggio di programmazione più idoneo. Per imparare a programmare, la cosa che conta veramente è imparare i concetti che ci stanno alla base della programmazione. Per imparare nel maniera più agevole questi concetti, ci dovremo concentrare, dovremo... Il mio consiglio è quello di prendere un linguaggio, un ambiente di programmazione molto ben documentato, diffuso, e che i tool, gli strumenti che ci permettono di programmare e provare i nostri programmi, siano di facile reperimento e sia facile capire come utilizzarli. Uno dei primi programmi utili, con un senso che io ho realizzato, è stato sviluppato in VBA, in Visual Basic for Application, in particolare all'interno del mondo Microsoft chiamato Microsoft Access, che è uno strumento, a sua volta un programma, per gestire programmi con una base di dati. Mi è stato utile per consolidare le conoscenze di programmazione e basi di dati che stavo affrontando in... che stavo imparando in quel periodo all'università, in particolare sull'esame in basi di dati, e le ho messe in pratica realizzando un'applicazione che serviva per gestire i tornei di karate. Nel mio passato ho fatto tanti anni di karate, ed era un... ed era doloroso organizzare e tenere tracce di tutti i punteggi, di tutto quello che avviene durante una giornata di gare in una palestra, e anche tutte le iscrizioni, per cui avevo realizzato questo programma che snelliva notevolmente l'uso di e-carta e semplificava i conteggi. Torniamo a noi, basta con le chiacchiere e andiamo al computer per vedere come realizzare un primo programma in C Sharp. Ho scelto C Sharp perché gli strumenti di sviluppo per questo linguaggio e anche i programmi che si creano con C Sharp sono open source, gratuiti e cross-platforming, che significa che non dobbiamo pagare niente e sono disponibili per Mac, Windows e Linux. E i programmi che creiamo funzionano per tutti e tre i sistemi operativi. Vediamo insieme cosa ci serve per realizzare il nostro primo programma facendo finta di non avere niente nel nostro PC dedicato alla programmazione. Parto da un ambiente pulito, questa è un'installazione di Windows pulita. Ho una schedetta qui delle cose da fare. La prima cosa per realizzare il nostro primo programma in .NET è andare nel sito Microsoft dove scarichiamo gli strumenti di sviluppo per il .NET che è .NET microsoft.com barra download e lo mettiamo nel nostro browser. Andiamo qui. E andiamo. A questo punto, mentre si carica la pagina, noi dobbiamo cercare il download di quello che è l'SDK, cioè Standard Development Kit. Ogni linguaggio di programmazione, ogni ambiente di programmazione ha il suo SDK. L'SDK è una raccolta di strumenti che servono per programmare in un determinato linguaggio. L'importante che troviamo sicuramente è per esempio il compilatore, ma troviamo anche il debugger e tutte altre utilità che chi ha prodotto questo linguaggio e questo kit ritiene utili e o necessarie alla scrittura di, alla creazione e alla scrittura di programmi nel linguaggio stesso. Quindi, come vediamo, qui nella pagina del .NET, che vi ricordo essere open source, completamente gratuito e multipiattaforma, il che significa che possiamo sviluppare applicativi .NET per Windows, Mac e Linux, ok? Cerchiamo nella ultima versione, che attualmente siamo alla versione 5 del .NET, andiamo a cercare l'SDK. A noi non interessa il runtime, che semplicemente sono le librerie per chi vuole eseguire i nostri programmi, ma noi li vogliamo costruire. Per cui ci serve l'SDK, lo Standard Development Kit. Clicchiamo qui e in automatico dovrebbe partire il download di questo pacchetto. E infatti. Eccolo qui, download terminato, facciamo open file. Parte l'installer, dice il .NET SDK è utilizzato per compilare, eseguire e testare le applicazioni .NET. Andiamo avanti. Eccoci qui, installazione completata. I tool sono stati installati in cprogramfile.net. Abbiamo l'SDK, il runtime e tutta un'altra serie di librerie, in particolare di framework, in particolare per lo sviluppo web, abbiamo Aspenet Core e per lo sviluppo di applicazioni Windows, il Windows Desktop Runtime. Ok, qui ci sono altri collegamenti utili, come la tutorial e documentazione aggiuntiva. Chiudiamo. Adesso verifichiamo la nostra installazione. Apriamo un'istanza di CMD o di PowerShell, a seconda di quello che preferiamo. A questo punto, possiamo verificare l'installazione corretta dei nostri tool digitando semplicemente .NET. Ok, .NET ci ha risposto, ci sono state informazioni generiche su come avere ulteriori informazioni, eccetera. Benissimo, siamo pronti per creare il nostro primo programma. Siamo pronti per creare il nostro primo programma. Facciamo una cartella sul desktop. Quindi facciamo una nuova cartella. E la chiamo il mio primo programma. Vado dentro. E qui apro una finestra PowerShell. Faccio File, Open PowerShell. Ok. Bene. A questo punto faccio .NET New Console. Stiamo dicendo, stiamo richiamando .NET che abbiamo appena scaricato tutti gli strumenti appunto per noi sviluppatori. New è il comando per creare una nuova applicazione di tipo console. Le applicazioni tipo console sono proprio queste, con l'interfaccia testuale. E sono in genere le prime applicazioni che si impara a programmare, perché diciamo la parte grafica è molto molto semplice e quasi non se ne deve occupare, quindi è un problema di meno. Ci si può concentrare sulle basi della programmazione. Premiamo invio. L'SDK ci dà il benvenuto e sta scaricando un template, quindi un'applicazione prefatta, con proprio il minimo indispensabile giusto per partire, di tipo console dai server Microsoft. Allora, che cosa succede? Questo strumento ha finito di lavorare, .NET New ha finito, e abbiamo nella nostra cartella che abbiamo creato poco fa, come possiamo vedere, dei nuovi file. Abbiamo il mio primo programma csproj, che rappresenta un file di progetto in C Sharp, noi stiamo facendo un'applicazione .NET con il linguaggio C Sharp, ok? E abbiamo il program.cs, che è un file che contiene il sorgente della nostra applicazione. Un sorgente di un'applicazione o di un programma può essere sparpagliato in tantissimi file, anzi di solito è buona pratica, ma lo impareremo più avanti. In questo caso il nostro intero programma è contenuto all'interno di questo file program.cs. Il file csproj è un file di progetto che serve per dare delle istruzioni all'SDK su come compilare il nostro programma. Compilare il nostro programma significa prendere quello che è un file come questo, program.cs, che adesso lo andiamo ad aprire, e vediamo che al suo interno c'è solo che del puro testo, lo apriamo con Notepad, ok? Quindi il compilatore prenderà questo file di testo e lo trasformerà in un programma. E per farlo ha bisogno di una serie di parametri che per il mondo .NET e C Sharp vengono scritte all'interno del file csproj. In questo caso noi non ce ne occupiamo, prendiamo tutto per buono e guardiamo come è composto il nostro primo programma. Ogni buon primo programma che si rispetti di solito è un cosiddetto hello world, ciao mondo, ok? In questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo un programma e la stragrande maggioranza dei programmi inizia da un metodo main, cioè il punto di ingresso di un programma dove il codice comincia ad eseguirsi. è un metodo, quindi sono un insieme di codice a cui sono state raggruppate e a cui è stato dato un nome. Questo insieme di righe di codice è stato chiamato main, cioè principale. Quindi il nostro programma comincerà ad eseguirsi da qui, ok? E che cosa fa? Fa un console.writeline, quindi prendiamo la console, questo, ci scriviamo una riga e in questa riga andiamo ad escrivere hello world, ma proviamolo subito. Come si fa a eseguire un programma, a compilare ed eseguire un programma C Sharp? Semplicissimo, .net run, quindi nella cartella dove abbiamo fatto .net new facciamo .net run. Che cosa vediamo? L'SDK per noi ha compilato il programma e l'ha eseguito. Possiamo vedere che l'ha eseguito perché c'è la nostra scritta hello world. Facciamo la nostra prima modifica a questo programma, traduciamolo in italiano, per esempio, scriviamo, cambiamo hello world e scriviamo ciao, ops, e scriviamo ciao mondo. Salvo il file e ridò il comando .net run. Quindi ho modificato il sorgente della mia applicazione, ho salvato il file e l'abbiamo rimandato in esecuzione con .net run. Ciao mondo. Ecco che abbiamo realizzato il nostro primo programma in C Sharp. Il nostro programma che abbiamo creato è stato creato e salvato dal compilatore all'interno della cartella bin, che sta per binaries, ovvero i binari, quindi il nostro programma è stato tradotto in un insieme binari di istruzioni 1 e 0, per questo si chiamano binari perché sono tutti 1 e 0. All'interno di questa struttura di cartelle, ok, troviamo il mio primo programma e se guardiamo è proprio un exe. Benissimo, ora che abbiamo realizzato il nostro primo programma ti lascio con tre suggerimenti, tre consigli che puoi portare con te nella tua carriera da programmatore che mi auguro iniziare oggi ed essere promettente. Il primo è abbi pazienza e sia anche determinato, perché la programmazione richiede tanto tempo, la curva di apprendimento all'inizio può essere particolarmente ripida, ma le soddisfazioni che se ne traggono possono essere veramente enormi. Sarà una bellissima soddisfazione vedere che realizziamo quello che vogliamo con il computer e gli facciamo fare quello che vogliamo noi, ma soprattutto realizziamo e risolviamo problemi concreti. Due, non smettere mai di imparare. Le tecnologie informatiche, i linguaggi di programmazione e tutto quello che ci sta intorno evolve molto rapidamente e quindi dovremmo essere sempre rapidi ad imparare perché dobbiamo stare sul pezzo. Terzo ed ultimo consiglio, divertiti. Un approccio sicuramente vincente nell'ambito della programmazione è divertirsi e cercare di partecipare ai progetti in cui ci possiamo riversare le nostre passioni e effettivamente trarre una sorta di divertimento e di soddisfazione personale. Metti mi piace a questo video e seguimi se hai imparato qualcosa di nuovo o se vuoi saperne di più perché seguiranno altri video su come imparare a programmare.